Il Veneto si è riscattato ancora una volta davanti ad una situazione che è apparsa da subito drammatica. L'alluvione del mese scorso ha lasciato un'eredità pesantissima in termini di danni, soprattutto economici. Di questo si è parlato nel comune di Casalserugo, diventato uno dei luoghi simbolo dei danni causati dalla potenza distruttrice dell'acqua. Sono intervenuti il presidente nazionale confartigianato, Giorgio Guerrini, il presidente regionale confartigianato e molti altri volti noti e non, che hanno contribuito a portare una testimonianza importante rispetto alle problematiche che hanno accompagnato il dissesto economico e sociale. Una straordinaria capacità di reazione, una determinazione, una voglia di riprendere l'attività sia degli imprenditori ma anche dei loro dipendenti. E questa è la riprova che l'impresa italiana, quella vera, l'impresa italiana che è fatta di piccoli imprenditori, l'impresa italiana degli imprenditori artigiani ha un valore che non è solo economico ma ha anche un valore sociale. 4.000 aziende nel sistema Veneto sono 0,9%, ripeto, per quanto riguarda invece il mondo artigianato 0,3% delle aziende che hanno avuto danni patrimoniali. Se il Veneto, il sistema nazionale non riesce ad aiutare il 0,3% di chi ha avuto un problema, io ho dei dubbi che sia un sistema questa nazione. La Confartigianato stima che delle 3.931 aziende con fermo delle attività dopo l'alluvione, il 97% si trova nelle province di Verona, Vicenza e Padova. L'epicentro del dramma è Padova, dove in 5 comuni si è concentrato il 60% delle imprese colpite. E' su queste 4.000 realtà che si indirizzano gli sforzi per una ricostruzione del tutto abbordabile, anche se il momento è, a livello nazionale, di difficoltà economica. Le azioni concrete si sono realizzate a partire dall'erogazione di denaro contante e di un credito agevolato immediato. Inoltre, sul sito www.artigiani.vicenza.it è possibile consultare un elenco di imprese artigiane che a prezzi equi possono intervenire presso aziende e unità familiari per lavori di ricostruzione. Quello che si continua a chiedere è l'approvazione del decreto 1000 proroghe, grazie al quale ottenere la sospensione dei pagamenti relativi alle imposte dirette e indirette fino al giugno 2011.